Ciao a tutti, vi invito a mettere e a far mettere ai vostri amici un mi piace sul mio canale Facebook Acqua e Giorgio Temporelli, in cui parlerò della più importante risorsa naturale, l'acqua, a partire dalle acque di acquedotto per arrivare alle acque minerali passando dai trattamenti sia di potabilizzazione che al punto d'uso, quindi un argomento vastissimo che può interessare sicuramente tutti i consumatori ma anche gli addetti del settore.